Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti al Tg La Sud Sport. Come ogni venerdì approfondiamo insieme le principali notizie sportive e presentiamo gli impegni agonistici del weekend. In apertura parliamo di calcio perché siamo alla vigilia di quella che forse è la partita più sentita dai tifosi del Napoli. Domani alle 20.45 gli azzurri sfideranno a Torino la Juventus nell'anticipo dell'undicesima giornata di campionato. Le fiamme divampanti e la storica rivalità tra partenopei e bianconeri quest'anno sono state alimentate dal passaggio di Higuain dall'ombra del Vesuvio a quella della mole antonelliana. Il trasferimento ha lasciato ferite aperte nei cuori dei tifosi del Napoli che hanno visto il loro giocatore migliore passare dalla parte dei più acerrimi nemici. Con l'assenza dell'infortunato di Bala sarà proprio il Pipita a far coppia con Mandzukic nell'attacco della capolista tra le muramiche dello Juventus Stadium, dove la scuola di Allegri ha sempre vinto dall'inizio del campionato. L'impianto di Torino, tra l'altro, rappresenta un vero e proprio tabù per il Napoli. Nessuno tra Mazzarri, Benitez e Sarri è riuscito a evitare la sconfitta da quando la struttura è stata inaugurata cinque stagioni fa. Considerata la squalifica di Gabbiedini per provare a interrompere la tradizione negativa, Maurizio Sarri dovrebbe riproporre il tridente che mercoledì sera ha battuto l'Empoli al San Paolo nel turno infrasettimanale. Giocherà dunque Mertens falso 9 con Cajon e Insigne sulle ali nelle loro posizioni abituali. A centrocampo certamente tornerà titolare capitano Amsic, pronto a ricomporre la linea mediana della passata stagione con Giorginio e Allan. Previsti infine due cambi in difesa rispetto alla gara con i Toscani, dentro Maximovic e Isai, fuori Chirikesh e Maggio. Notizia del giorno poi è la disiniazione arbitrale a dirigere il match tra Juventus e Napoli sarà il signor Rocchi di Firenze. Dalla Napoli del calcio passiamo a quella del basket, parliamo del campionato di A1 femminile che domenica torna sotto i riflettori con la quinta giornata. Anche per le ragazze della Dyke c'è un impegno molto atteso visto che nel posticipo delle 20 e 30 le arancio blu saranno di scena a battipaia nel derby campano. Una partita fondamentale per le ragazze di Cochmolino a caccia di continuità dei risultati dopo il bel successo casalingo con Umbertide. Recuperata la playmaker Beatrice Carta mancheranno all'appelo soltanto Pastore e Gemelos nella sfida alle Salernitane ancora a secco di vittorie e inchiodate all'ultimo posto della graduatoria. Sul parquet domenica alle 18.15 anche le squadre campane del massimo campionato di palla a canestro maschile. Impegno casalingo per la sediga Savellino che riceve al pala del Mauro la Leonessa Brescia, una gara alla portata di Biancoverdi di Sacripanti chiamati a vincere per continuare la corsa nelle zone nobili della classifica. Impresa ostica attende invece la pastareggia caserta che si presenterà al forum d'Assago per sfidare i campioni d'Italia di Milano. Ancora punteggio pieno in campionato, i Lombardi hanno perso solo martedì in Champions League, la prima partita della stagione, scendendo onorevolmente sul parquet dei campioni di Grecia dell'Olympiakos. Ora cambiamo argomento, ci spostiamo in piscina per parlare di palla a nuoto perché fermo il campionato di A1 ma ritorna all'Eurocup, pronte a scendere in acqua a Posillipo e canottieri Napoli da oggi impegnate nei gironi del secondo turno di qualificazione. Piazzarsi entro i primi due posti del proprio raggruppamento significherebbe accedere ai quarti di finale della manifestazione dove ci sarà l'incrocio con le formazioni eliminate dal terzo turno della Champions League. Complicato in particolare il compito del Posillipo di scena a Zagabria in casa della Mladost guidata in panchina da un grande ex, Ratko Stritov, l'uomo che con un suo gol firmò il successo dei Rossoverdi e la Coppa dei Campioni del 2005. Le altre avversarie sono il Posk di Spalato e il Vasutas, squadra che battezzerà proprio questa sera i Rossoverdi nella prima gara del girone. Il team di Occhiello ha già affrontato in precampionato gli ungheresi e ha vinto per 12-8 ma chiaramente in quell'occasione si trattava di un amichevole, situazione ben diversa rispetto ad una partita che può valere un quarto di finale europeo. Gioca in casa la canottieri Napoli che si trova davanti anche un girone sulla carta più agevole. La squadra di Zizza esordirà la Scandone questa sera alle 20.30 contro i francesi del Pas d'Ai. Una vittoria permetterebbe ai giallorossi di ipotecare la qualificazione già domani nella sfida con gli spagnoli del Terrassa, formazione che torna a Napoli dopo aver superato la prima fase nel gruppo D alle spalle del Posillipo. Ultima avversaria sarà il Ferencvaros, la sonato team ungherese che ha tutte le carte in regola per arrivare in fondo alla competizione. Il match con i Maggiari chiuderà il girone domenica mattina. Rischia di essere una partita ininfluente se entrambe le squadre avranno passato il turno ma si preannuncia certamente come la sfida più affascinante del girone. E ora rimaniamo tra le acque ma dalla piscina ci spostiamo a quelle del Golfo di Napoli che questo fine settimana sarà teatro della finale 2016 della Lega Italiana Vela. L'ultimo atto del campionato nazionale per club vedrà impegnati 18 migliori equipaggi italiani pronti a contendersi il titolo di categoria. I rappresentanti della città ospitante sono pronti a regatare le imbarcazioni del Savoia e dell'LNA Napoli. Oltre al trofeo sono in palio i pass per partecipare agli eventi internazionali della Saling Champions League 2017 che saranno assegnati alle prime quattro classificate della competizione. Era la nostra ultima notizia e il Tg da Sud Sport termina qui. Io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi do appuntamento a lunedì per la prossima edizione del nostro telegiornale. Buona serata.